Alessandro, che emozioni provi nell'essere qui al Riviera Film Festival in Liguria? Beh, l'emozione che si ha sempre quando si va in un festival coinvolti da cose che si sono fatte, qui presento un libro e un film, sono felice di farlo col pubblico dal vivo, in un posto bellissimo come Sestri Levante, insomma è un piacere. Il cinema si fa anche per questo, per vedere che effetto fa sulle persone che vanno a vedere i film che produciamo, quindi è sempre quello, nascondersi dietro una tenda e vedere l'effetto che fa. Questo per te è stato un anno importante con un professore che ha avuto un grande successo, cosa ti ha lasciato questa serie? Quando tornerete sul set e se c'è qualche aspetto che ti piacerebbe approfondire meglio del tuo personaggio nella seconda stagione? Sì, il professore è stato una serie che ha avuto enorme successo, di critica, di pubblico, i numeri che ha fatto, sono molto contento, Petraglia che ha sceneggiato la serie, è un grande sceneggiatore di cinema e si vede una penna di altissima qualità, Alessandro Dalati è un regista che è arrivato al cinema, quindi è una serie di alta qualità, però popolare perché va in onda sul Rai 1. Siamo in chiave di scrittura, ricominceremo le riprese della seconda serie a gennaio. Ho imparato tanto, intanto ho dovuto studiare filosofia, cosa che non avevo fatto in maniera anche così approfondita per capire soprattutto gli argomenti di cui parlavo, i personaggi di cui parlavo. È stato bellissimo lavorare con attori giovani, questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Il contatto con le nuove generazioni è per me in questa fase della mia vita importante, non soltanto perché ho un figlio ventenne, ma perché sono molto interessato alla loro visione del mondo, a avere relazioni con loro e quindi la seconda serie ho proprio voglia di farla e speriamo di portare. So che ci saranno sorprese, nuovi arrivi nella classe e so anche che l'attività amatoriale del professore continuerà ad essere abbastanza vivace, quindi questo però soltanto Petraglia potrà svelare cosa succederà al nostro Dante. Visto il grande successo del Silenzio Grande, ti reputi ancora un attore che fa il regista o cominci a sentirti un regista che fa l'attore? Ma io in realtà mi sono sempre sentito il regista che fa l'attore, spero in futuro, non subito, sto facendo molti film come attore in questo periodo e mi piace perché sono sceneggiatore che mi piacciono, di poter dire che sono un regista che non fa l'attore. Ha invitato le persone a boicottare Elisabetta Franchi dopo le sue parole, sappiamo che sei molto attento alle tematiche sociali. Cosa ti senti di dire a lei e ad altri imprenditori che non credono nei giovani? Perché d'altronde un regista è anche un po' un imprenditore che sceglie i collaboratori e tu invece lavori spesso con giovani. Ma io ho trovato le dichiarazioni della signora Franchi veramente agghiaccianti, mi sono espresso su Twitter dove sono presente spesso, ho già detto quello che pensavo, penso che sia un concetto ottocentesco il suo, da boicottare in tutti i sensi. Lei non vuole assumere donne più giovani di 40 anni, io mi auguro che le sue clienti sotto i 40 anni, l'ho già detto, non acquistino i suoi vestiti perché è occupata in altro, ad allattare, a fare figli, tutte le cose che lei ritiene dannose per l'efficacia della sua azienda. Quindi avranno da fare. Da papà quanto sei contento di vedere che lei è cresciuto con grandi, importanti valori di senso civico perché tra l'altro ha dichiarato di averli imparati a casa? Sono molto contento, poi i figli diventano un po' quello dei genitori, un mestiere, ce l'abbiamo messa tutta, soprattutto mia moglie che è stata molto efficace in questo senso e continua a esserlo, seppur lei ormai sia totalmente, come sapete, indipendente, ha un suo mestiere, si è laureato e farà altro nella vita. Sono contento, poi ci ha messo di su, è molto più saggio, molto più assennato di quanto non fossi alla sua età. Anche io ho avuto un padre molto attento all'educazione dei propri figli, quindi ha qualità che io non avevo e che sono proprio sue. Il merito è soprattutto suo. Oltre quindi al professore hai qualche altro progetto che ti piace segnalarci, ti fa piacere segnalarci? Beh, insomma in autunno sarò su Netflix con un film d'azione, il mio nome è Vendetta, dove faccio una cosa che non ho mai fatto, è un Revenge, un film di pura azione, molto ben fatto, per gli amanti del genere sarà una bella sorpresa. Ho altri due strani film che usciranno, strani perché uno è di Francesco Laggi, si chiama Il Pataffio, ed è un film ambientato nell'anno 1000, di cui è il protagonista Lino Musella e qui faccio una grande partecipazione, io ho una Valerio Massandrea e una Giorgio Tirabassi, ed è una curiosa commedia medievale. E poi un'opera prima di Emilia Mazzacurati, che ho citato prima, Billy, che è un film onirico molto personale, di un'autrice che secondo me si farà notare, e poi sto per girare altri due film, Il Professore, ma di questo parleremo più avanti, perché se no sembra che faccio tutto io.